La Giunta Fanese ha approvato tre progetti esecutivi per le bonifiche dell'amianto negli immobili comunali che riguardano alcune scuole dove verranno rimossi piccoli manufatti per una spesa complessiva di 21.000 euro, la demolizione e lo smantimento dei materiali all'ex mattatoio per un importo di 300.000 euro e 53 interventi in vari fabbricati come nei depositi comunali, negli impianti sportivi, negli orti per anziani e nelle case coloniche. Per questo ultimo progetto sono previsti due lotti di lavori, il primo da 130.000 euro mentre il secondo da 270.000. Devo ringraziare il settore per la prontezza della progettazione, gli avvisi di interesse sono stati già pubblicati e si chiuderanno anche alcune situazioni adesso. Sostanzialmente noi abbiamo l'obbligo e quindi puntiamo e conseguiremo questo obiettivo di fare i lavori e di pagarli una volta già chiusi e collaudati entro l'anno.